Il 19 settembre 2011 scocca il ventesimo anniversario del ritrovamento di Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio da parte di una coppia di turisti tedeschi sul gioco di Tisa. Per questo l'Alto Adige si prepara a celebrare l'importante appuntamento con una serie di iniziative formative di intrattenimento. A presentarle nel corso di un incontro con la stampa c'erano l'assessore Sabina Kaslater-Mur e le direttrici delle due strutture museali dedicate ad Ötzi, Angelica Fleckinger del Museo archeologico e Johanna Nida-Kofler di Archeopark Valsenales. Il contributo più importante da parte del Museo archeologico è sicuramente la mostra su 20 anni, l'uomo venuto dal ghiaccio che è già stata inaugurata in febbraio. E questo fine settimana particolare diamo la possibilità ai cittadini di Bolzano di vedere la mostra anche gratuitamente. Oltre a questo c'è il fine settimana per le famiglie ritorno alla preistoria dove invitiamo a sperimentare con i reperti non originali chiaramente con i reperti dell'uomo venuto dal ghiaccio sui prati di Talvera. E poi lunedì 19 c'è un giorno con la porta aperta dove ognuno è invitato a vedere il museo fino alle 8 di sera. In programma nelle due strutture diverse mostre, visite guidate, workshop e laboratori didattici che promettono emozioni e intrattenimento per adulti e bambini. Abbiamo organizzato una serie di manifestazioni e di attività anche in Valsenales vicino al luogo di ritrovamento e soprattutto abbiamo organizzato per il 19 di settembre, il giorno di ritrovamento, una festa sul luogo di ritrovamento, quindi in alta quota su 3.210 metri. Anche l'archeoparco in Valsenales quest'anno festeggia il suo primo decennio, il 16 di settembre. In un incontro celebrativo sul Similaun si discuteranno conseguenze ed effetti della scoperta di Ötzi, in particolare sul turismo della valle.